Sabato mattina attorno alle 4.30 il rivenimento del 26enne Fabio Paciola ancora cosciente in un'autovettura nei pressi della stazione di Canosa di Puglia raggiunto da tre colpi d'arma da fuoco. Immediato il trasporto all'ospedale Bonomo di Andria per un intervento delicato e lungo visto che i tre proietti li avevano raggiunto il 26enne, due alla testa ed uno alla nuca. Intervento conclusosi in tarda mattinata con il trasferimento in terapia intensiva dove sembra stiano migliorando le condizioni del giovane barbiera. Nel frattempo sono due i fermi della Polizia di Stato effettuati nella giornata di ieri e di cui i dettagli saranno resi noti nel corso della mattinata presso la Procura della Repubblica di Trani. Il barbiere, che lavorava a Milano infatti, è coitaneo oltre che amico di Giuseppe Vassalli, altro giovane scomparso a Canosa di Puglia, a fine estate scorsa e mai più ritrovato. Una probabile lupara bianca sulla quale sono continuate le indagini del commissariato di Canosa e sulla quale si potrebbe far luce proprio a causa del tentato omicidio di Fabio Paciola. Restano ancora diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti, ma di certo c'è che lo stesso Paciola nel pomeriggio di venerdì scorso è sparito nel nulla, anche se sarebbe dovuto ripartire alla volta del capoluogo Lombardo per tornare a lavoro. Nell'ambito dell'inchiesta su Vassalli, inoltre, lo stesso 26enne Canosino fu ascoltato per via della sua amicizia con il giovane scomparso. Un intraccio che inquirenti e procura, nel massimo riservo, stanno cercando di sbrogliare.